Benvenuti a tutti ragazzi, io sono Ditto e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo sulla serie di Waka Aizen 2, il terzo episodio. Vi invito a lasciare un like, arriviamo a 5 mi piace per un prossimo video e niente, buona visione. Allora, questa era la cosa che abbiamo fatto nel secondo episodio, nell'ultimo episodio. E abbiamo una raccolta di cocco bin, mettiamo ad andare a fare un altro e per completare un altro obiettivo ci servivano 16 cocco bin. Adesso ne abbiamo 4, quindi ce ne serve un altro e 12, siamo quasi a metà. Nel scorso episodio ci siamo fatti il caschetto, quindi ce manca i stivaletti e il pezzo centrale. Dobbiamo trovare un altro pezzo di ferro perché la nostra spada ci ha abbandonato. E niente, dobbiamo cercare questo pezzo. Vediamo se lo troviamo. Carbone, niente di che. Ragazzi, è incredibile. Non ho trovato nessun pezzo di ferro e mi si è rotto il piccone. Il lungo piccone di ferro che avevo. Quindi ora dobbiamo farci un bel piccone di pietra. Ehm, facciamo il piccone di pietra e facciamoci il vecchio piccone di pietra. Ce ne facciamo due, perché uno, anzi, tre. Facciamoci un altro e un altro ancora. Tanto quelli di pietra non dureranno proprio per niente. Fino a ora non sono riuscita neanche a trovare neanche un piccolo pezzettino. Mi scopo tutto questo pezzo. Tutto questo. Tutto questo. E niente, non trovo nessun pezzetto di ferro. Neanche uno. Come volete vedere, neanche uno. E niente, senza di quello non possiamo farci la spada. Noi dobbiamo stare molto attenti. Allora, ora non la faccio con una spada di pietra. Ma io non è niente. Anzi, ce la facciamo subito. E ce la facciamo pure un po' di dolce, perché noi non ne abbiamo. Allora, prendiamo. E un po' di stick. Poi, prendiamo. E dopo questo facciamo la spada. E nello scorso episodio siamo andati, non so se ve l'ho fatto vedere, e sono andato nell'isola Desert Island. Praticamente non c'è questo granché di cose. C'era un mob spawner qui sotto. Qua. Questo blocchetto qui non c'è più adesso. Non so se qui sotto c'è qualcosa. Andiamo a vedere. Passe che c'è qualcosa. Io sento già scheletri. Quindi, passe che c'è un mob spawner. Una grotta. Speriamo una grotta. Silverfish. Ecco. E' un calutino al vuoto. Per fortuna abbiamo il Keep Inventor. Sennò abbiamo perso già tutto. Andiamo nell'isola. Quanto gli ho di Silverfish. Mi serve un'altra stringa e potremmo farci un bel arco. Andiamo qui giù. Anche qua si è trasformato il Silverfish. Così attappiamo. Dove stavo sentendo un rumore degli scheletri. Adesso non lo sento più. Per quanto a Silverfish c'è poca vita. Ok, questi sono tutti i blocchi normali. Perfetto, come questi. Oh, ci sono i lapislazuli. Però ci sono i piccoli di ferro. Cosa che non abbiamo. Quindi questi che qui. Vorremmo del ferro. Aspetta, no, qui no. Speriamo. Non so come fare. Perfetto. Ferro trovato. Ok, Silverfish. Via. Quanto ce n'è? Ok, perfetto. Possiamo farci già un piccone. Chiude uno. Dai, altri. Altri. Poi di due. Vabbè, solo due. Quindi possiamo farci soltanto un piccone. Vediamo se sotto c'è qualcosa di buono. È venuto il ferro laggiù. Non ho visto male. Ci sono i lapislazuli. No, qui. Andiamo avanti qui. Però non ci sarà un bel niente. E niente, in quest'isola non c'era veramente niente. Oh, qui l'altro ferro, non l'avevo visto. Un altro pezzettino, perfetto. Quindi possiamo farci una spada. No, guarda, un piccone, possiamo farcelo. Ci deve soltanto un ultimo pezzettino per farci la spada. Quindi, no, niente. Non vado via da qua, perché non trovo l'ultimo pezzettino di ferro. Oh, oh. Ma aspettate. Guardate che cosa ho visto. Una cosa, ho trovato anche l'esilla anterna. Guardate che piccone si sta quasi per distruggire un'avventura. Guardate qui sotto, una bella cesta. Oddio, non mi dico che devo affrontare il Wither. Nooo. Il creeper. Non c'è visto strano. Non ci vede, sicuro. Papia. Perfetto. Pocca vita, però. Però non c'è. Wagon Artifici. Non è che sotto di questo ce ne sono un tipo un'altra, no? No. Poi sentivo lo scheletro. Non c'è più lo scheletro. Vabbè. Poi avete visto, c'era qualcosa. Perfetto, sono caduto. Non avevo visto il coso. Sette livelli buttati. Anzi, no, no, non perdiamo neanche i livelli. Alla, perfetto. Alla. Andiamo con Gobin. In questo episodio dobbiamo forza completare quell'obiettivo. Quanti siamo adesso? Siamo a? Dieci. Ne moccano altre sei. Allora. Mettiamo i smeraldi. Questo, questo, questo. Tutto a posto. Tutto quello che possiamo mettiamo tutto a posto. Allora. Cuciniamo i tre pezzi di Iron. Ci facciamo il piccone. E... E poi, chi altro? Andiamo a scolare una nuova isola. Andiamo su quell'isola lì. Che ho già veduto il ferro. Mi sembra, no, mi faccio anche la spada. E niente, andiamo su quell'isola lì. Perfetto. Andiamo, andiamo. Allora, portato quelli e tre pezzi. Ah, mi sono fatto anche il piccone di ferro, ovviamente. Che cosa di buono. Non riesco a scolare. Oddio, quanti creeper. Oddio, oddio, oddio. Allora. Ci sono tutti i creeper a legal cagna. Eccolo in altro. Mamma mia, per poco. Il ragno ci serve, il ragno. Questo è il creeper. Ecco, molto esploso. Ci ha poca vita. E... La nostra cesta è nascosta. Eccola qui. No, non morire, non morire, non morire. Guardate dove mi sono salvato. Mamma mia. Allora, scaviamo all'interno. Allora, niente. Siamo morti. E... Ho trovato... Ho trovato un... Un sotto su... Un... Qua, su qui sotto. Mi si scende. Niente. Non riesco proprio... Questa è già la terza volta che muoio qua dentro. Dato, ho visto già la strada per la cesta. Cioè, non ho visto la cesta. Ma sono sicuro che c'è. Cioè, in ogni isola ci dovrebbe stare. Da qui sotto qui. Eccola qui sotto. Qui sotto, qui sotto. Tagliere di vita, tagliere di vita. Tagliere di vita. Non si svolgono, però... Scappa, 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 scappa. Scappa, scappa. Oh, ce ne resta sempre uno che rompe. Che ne resta sempre uno.